lemon card la crema al limone più buona che ci sia in una casseruola metti la fecola di patate e aggiungi l'acqua mescola per bene per evitare che si formino grumi poni sul fuoco e aggiungi lo zucchero poi i tuorli d'uovo e il succo filtrato dei limoni cuoce una decina di minuti a fiamma bassa fino a quando la crema non si addensa una volta pronta togli dal fuoco e mentre è ancora calda aggiungi la buccia grattugiata dei limoni bio e del burro ben freddo mescola fino a quando con il calore della crema non si sarà sciolto metti in una ciotola e lascia raffreddare e in una ciotola e l'abbiamo Grazie a tutti.